Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Come Presidente dell'Opera Nicola Vernieri vi do il benvenuto a questa serata di carattere filosofico-culturale dal titolo, anzi la manifestazione è più che una serata di carattere storico-filosofico, dal titolo Dialoghi tra cielo e terra, un ciclo di sette lezio magistralis alla ricerca di noi stessi. In un periodo storico in cui la società ci impone modelli di riferimento altamente dinamici, in cui le cose scorrono velocemente, in cui il dialogo avviene sostanzialmente in una forma virtuale. Tutti conosciamo il valore che oggi hanno i social network, in cui più che confrontarsi si tende a scontrarsi, in cui più che a dialogare si tende ad affermare la propria idea in maniera anche forte, in cui le verità dominanti si scontrano con quella che è la controinformazione dominante, mancando di fatto una sintesi tra le varie posizioni. L'opera Nicola Vernieri, fedele al suo spirito fondativo di strumento di diffusione della cultura, e il Museo delle Terre d'Italia, nella cui suggestiva cornice questa sera siamo ospitati, hanno deciso di fare un passo indietro e di ritornare a fare un percorso che altri nella storia hanno fatto. Così come i filosofi greci, soprattutto quelli della scuola atenese, si riunivano nelle agorà e impartivano lezioni ai propri discepoli e con loro si confrontavano, noi in questo modo cerchiamo di riportare il dialogo e il confronto a una natura, reale, e lo faremo attraverso filosofi che già si sono cimentati sull'argomento in passato, e l'argomento è la ricerca di noi stessi. Questa prima lezione magistralis sarà tenuta dal magister Gaetano Ricco, vera anima di questa manifestazione, e verterà sul tema Pitagora e la scuola di Poseidonia. Consegno il mantello della sapienza al magister che inizierà in questo modo la sua lezione. Grazie. Grazie. Allora, come era abitudine dei magistri prima pagina, soprattutto dell'epoca medievale, epoca in cui la filosofia passava sotto il segno della scolastica, il maestro, salito in cattedra, salutava, allora i suoi allievi, io dirò i miei ospiti, naturalmente, e in questo luogo dove appunto, vedete, si celebra e si onora la terra, noi diamo inizio a questo ciclo di lexio magistralis che vogliono andare incontro a quel bisogno, se così possiamo dire, lo diceva prima il Presidente, di scavare un po' dentro noi stessi per cercare delle ragioni e delle motivazioni e anche di un senso alla nostra stessa vita. Abbiamo deciso di cominciare appunto questo nostro viaggio da Pitagora. Ma perché Pitagora? Perché intorno a Pitagora davvero la storia della filosofia e già i filosofi antichi, va bene, si sono molto attardate a scrivere, tanto che qualcuno addirittura, considerato che alla fine si è tradotta in una forma di scuola la sua filosofia, a qualcuno addirittura ha pensato che non sia mai esistito, ma che in realtà questo Pitagora, perché il nome stesso Pitagora, lascia intendere che c'è qualcosa, insomma, di misterioso in questo personaggio. Ed è stato sempre accompagnato Pitagora da un alone di misticità e di religiosità. Una misticità però, come adesso proverò a dire durante la mia lexio, da bene, che era molto vicino a quello che è l'impegno civico, a quello che era il buon governo delle polis di quell'epoca. Pitagora, etimologicamente, e sono quasi tutti d'accordo gli studiosi e i critici su questo, significa Pitagora. Cioè, se voi guardate, in questa radice, Agora lo diceva prima anche Adriano, il presidente, c'è la piazza, c'è il luogo pubblico dove appunto i greci si riunivano e discutevano di quelli che erano non solo i problemi della città, ma anche le alleanze, le città vicine, la colonizzazione che poi arriverà. E poi Pit, che molti credono debba farsi risalire a quel famoso mito, va bene, che vuole che Apollo, ancora bambino, va bene, abbia ucciso questo serpente Pizio, si chiamava, che aveva insidiato la madre, la Tona, va bene, prima ancora che Giove si unisse con lei e poi desse origine allo stesso Dio Apollo. Questo serpente, ucciso da Apollo, fu ucciso in un luogo dove poi, putrefascendo questo serpente, creò, come posso dire, un luogo mefitico dove delle esalazioni erano talmente insistenti che chiunque passasse da quel luogo veniva preso da una forma di catalesse, di svenimento e questo fatto cominciò a talmente incuriosire i greci di quel tempo che, come sempre accadeva in quel tempo quando avvenivano dei fenomeni che non si sapevano spiegare, cominciarono, come posso dire, a segnalarlo e piano piano, così a sacralizzarlo, tanto che a un certo punto decisero addirittura per evitare che ai viaggiatori, ai viandanti che passavano da quella parte di poter finire svenuti o addirittura uccisi da queste esalazioni mefitiche, va bene, era essere un tempio. Ed è quello che poi diventò il famoso tempio di Apollo dove la Sibilla, la Pizzi appunto, venne detta proprio perché si vuole che lei profetizzasse in uno stato di estasi, diciamo così, in uno stato di semi-ingoscienza proprio perché avvolte da questa esalazione e quindi era essere questo tempio che fu il tempio di Apollo e proprio perché la profetessa, diciamo spesso, diciamo nelle sue profezie era ambigua, cominciarono anche a nascere intorno a queste sue profezie una serie di interpretazioni che sempre di più nel tempo si andarono spostando su quello che doveva essere l'educazione che gli uomini avrebbero dovuto ricevere da queste profezie per poter poi nella propria città come possiamo dire così impegnarsi perché quella sua città potesse diventare sempre più grande e quindi avere buone leggi. Insomma, tutto questo per dire che cosa? Che questa figura di Pitagora è talmente avvolta dal mistero ed è talmente legata alla figura di Apollo che addirittura Giamblico, che è uno storico del secondo secolo dopo Cristo quindi parliamo di 800 anni dopo che era vissuto Pitagora quindi già nel secondo secolo dopo Cristo è un po' come noi nel Medioevo non riusciamo a immaginare veramente cosa accadeva nel Medioevo così gli storici del secondo secolo dopo Cristo soprattutto appunto in epoca in cui Roma oramai stava diventando quello che stava diventando vabbè, scrisse questo Giamblico di Calcide della vita di Pitagora ma probabilmente, ripeto, era lontano veramente da quello che fu il tempo di Pitagora e quindi in questa sua opera molto importante perché tutti coloro che studiano oppure amano Pitagoro vogliono andare, diciamo così incontro alla filosofia di Pitagora non possono fare a meno di questo storico e quindi tutti quanti alla fine l'hanno sebbene qualcuno l'abbia criticato ma in realtà l'hanno saccheggiato tutti io per prima, diciamo anche stasera poi sentirete vi leggerò qualche citazione tratta da questo libro proprio per darvi la misura di quella che era Pitagora e di quella che fu la scuola Pitagorica e soprattutto quella di Posidonia della quale non se ne parla nelle fonti io infatti come mi sono mosso diciamo così per dare corpo a questa scuola di Posidonia perché se voi prendete un qualunque testo di storia della filosofia non la sentirete mai citare sentirete senz'altro Elea Parmenide non so Zenone tutta quella che è la grande filosofia insomma che nacque ad Elea però di Pestum filosofica credo che non ne abbia mai sentito perché effettivamente le fonti sono talmente avare talmente monche che ci sono solo qualche riferimento diciamo per di più riferita ad un'altra persona come per esempio quel batilao di Posidonia che viene citato in base ad Alcmeone che fu il grande medico di Crotone insomma che probabilmente sta all'origine della nostra stessa scuola medica salernitana questa storia perché è una storia che va molto all'indietro e quindi stavo dicendo di questo giamblico che addirittura per come posso dire consolidare quella tradizione che voleva Pitagora figlio addirittura di Apollo perché lui chi era Pitagora era colui che parlava in piazza attraverso diciamo la come possiamo dire la divinazione del dio Apollo perché Pizio come vi ho detto fa riferimento al mito in cui Apollo ucciso il serpente fece sorgere poi diciamo così questo tempio sul quale come sapete sul frondone c'era scritto Gnotisi Autonni cioè conosci te stesso ed è questa forse la massima come dirà un patriarca di Costantinopolo del nono secolo la massima probabilmente più difficile da praticare veramente e quindi cosa racconta Giambligo racconta allora i greci sapete molta fantasia è il paese della poesia e la poesia non può non nutrirsi di fantasia perché la poesia deve andare oltre quelli che sono i confini della nostra razionalità quelli che sono i confini della nostra quotidianità solo così la poesia può diventare interessante e quindi spesso presso i greci la poesia era una narrazione fantastica pensate ad Omero e può bastare quanta fantasia c'è nell'avventura di Ulisse Odisse eccetera eccetera e quindi racconta che i greci immaginavano che al di là della Grecia verso il nord verso il polo nord esistesse un paese loro lo chiamavano l'iperborea cioè un paese che sta a settentrione molto lontano e proprio per questo nella mente dei greci pieni di mistero perché erano terre sconosciute dove non arrivava mai nessuno e si racconta appunto Giamblico che un certo Abaris che nella sua terra iperborea era già famosa e da tutti quanti considerato un zandone perché aveva attraverso la sua esperienza proprio di età perché presso i greci ecco faccio una piccola parentesi che è uno poi dei principi se volete anche della scuola pitagorica diceva Pitagora e torno poi ad Abaris dopo diceva che nella vita come nella natura come nell'universo tutto quello che viene prima richiama più rispetto di quello che viene dopo dice ed ecco perché dice noi diceva Pitagora ai suoi discepoli ecco perché noi al sorgere del sole andiamo va bene presso il suo tempio lo adoriamo e quindi consideriamo più venerabile l'alba cioè il sorgere del giorno che della sera e così via e quindi di conseguenza chi è nato prima diciamo che così tiene più rispetto di chi è nato dopo e quindi questo Abaris di cui Giamblico dice solo che era molto molto vecchio quindi possiamo immaginare che avesse probabilmente superato i cento e più anni aveva segmentato una sapienza così grande che addirittura il dio Apollo va bene volle regalare perché lui poi in questa sua sapienza l'aveva tramutato in una forma di sapienza taumaturgica cioè praticamente guariva diciamo così le persone malate o addirittura liberava le città della pestilenza per esempio si racconta che l'abbia fatto a Sparta voi sapete che Sparta voi sapete no forse non lo sapevo manco io comunque Sparta è ubicata in un luogo dove i greci da sempre hanno ritenuto che l'aria fosse malsana perché circondata da e quindi la consideravano una città malsana e quindi il fatto che Abaris con questa sua sapienza taumaturgica sia riuscita a liberare Sparta dalla pestilenza capite che ne fecero diciamo oggi direbbe un grande leader un grande stregone del tempo e quindi Apollo gli regalò tutto questo eppure quando Abaris e Apollo perché lui potesse poi come devo dire mettere a disposizione la sua arte no e le sue capacità taumaturgiche di tutto quello che era il mondo greco si racconta che sempre Giamblico dice questo che Apollo gli abbia regalato una freccia d'oro la quale freccia d'oro aveva il potere di spostarlo velocemente da una parte all'altra e quindi Abaris va bene continuamente va bene applicava le sue arti taumaturgiche guarendo città persone eccetera e però seppe di un certo Pitagora che anche lui no predicava educava parlava ai giovani parlava alle donne ecco un'altra cosa importante che voi capite la società greca era una società assolutamente maschilista le donne erano relegate come dicevano i greci nel loikos cioè loikos da cui poi è derivata la parola economia loikos era la parte più remota della casa lì dove si svolgevano le mansioni domestiche quotidiane e quindi era una società assolutamente maschilista è vero che ci sono state delle eccezioni anche nell'antica grecia insomma sono i nomi di qualche donna che si è fatta diciamo così notare al di là di quello che era il maschilismo e il patriarcato generale e quindi dicevo anche nella scuola di Pitagora fu speciale anche per questo perché venivano ammesse anche le donne alla sua scuola e se queste donne erano capaci veramente come lui dice di essere adatte alla filosofia potevano anche diventare amico del maestro poi dopo strada facendo vi spiegherò l'importanza del concetto e dell'amicizia presso i Pitagorici che era forse il fulcro stesso della loro filosofia e quindi stavo dicendo di Pitagora appunto e delle donne Abaris seppe che si parlava di questo Pitagora e decise di conoscere di volerlo conoscere e quindi venne scese dal paese degli Porborei venne va bene lui non specifica ma credo che sia andato a Samo dove Samo era la patria di Pitagora anche se Giamblico lo dice di Samo che è un'isola greca che sta di fronte alla Turchia oggi più o meno ma ci sono moltissimi altri proprio perché vi ho detto che è un personaggio misterioso avvolto da un alone di misticità veramente grande molti invece ritengono che poteva essere addirittura italico cioè che fosse il padre fosse un tirreno che si era spostato a Samo per i suoi traffici e lì avrebbe dato alla luce diciamo questo fanciullo che presso altre fonti viene addirittura detto lo dicevo prima figlio di Apollo perché un giorno dice che lo trovarono va bene seduto per terra con gli occhi fissi al sole senza accecarsi e allora si meravigliarono dice come è possibile che possa guardare il sole senza accecarsi e quindi da lì sarebbe nata poi la leggenda se vogliamo che poteva essere figlio di Apollo e che la madre l'avesse concepito appunto succedeva presso i greci lo sapete tutti gli dei si sono uniti con donne normali e da questa loro unione connubio sono nati tantissimi eroi come possiamo dire semidei che hanno dato all'umanità la possibilità di andare avanti perché vedete un attimo di riflessione su questa cosa si parlava di stupri divini effettivamente non andavano per il sottile questi dei se una donna gli piaceva niente la salivano e non c'era niente da fare conoscete forse meglio di me il mito di Europa che appunto ha dato poi il nome al nostro continente si racconta appunto che Europa va bene bellissima figlia che in Sicilia stava raccogliendo insieme alle altre sue amiche fiori per i cambi eccetera quando a un certo punto dalla spiaggia va bene arriva un toro bianco con gli occhi languidi che comincia a guardare questa fanciulla in un modo così suotente e affascinante che questa fanciulla venne presa dalla curiosità di conoscere di sapere dice chi è questo toro qui che mi guarda in questo modo e quindi si avvicinò al toro e il toro che era Giove sotto me perché Giove molto spesso si mascherava una volta si mascherava da cigno una volta da toro un'altra volta da aquila insomma amava diciamo così mascherarsi va bene sotto il segno degli animali perché gli animali ecco e anche loro partecipavano a quella idea che la natura fosse una solamente che le differenze che noi vediamo era solo una questione di gradazione e nulla più e quindi si avvicina e il toro con un gesto della coda praticamente la mette in croppa e comincia a correre nel mare e corre Europa chiama naturalmente ma non c'è niente da fare il toro va avanti nuota 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 alla fine racconta il mito va bene incrociò quest'isola di Creta va bene dove si fermò e vide un platano va bene e andò sotto il platano e lì Giove si trasforma come potete immaginare in uno degli dèi più belli e splendenti e luminosi che ci potessero essere e il platano che vede tutto questo vedete nell'antichità parlavano gli animali parlavano le piante insomma era tutta una personificazione generalizzata il platano vede questa scena che diciamo stanno così per unirsi queste due persone e cosa fa il platano racconta il mito piega i suoi rami va bene forma una forma di capanna va bene indorno a questi due perché possono consumare ripeto il loro atto d'amore e Giove una volta conclusa diciamo il connubio per ringraziare voi sapete i platani perdono le foglie tutti infatti noi abbiamo il viale via risorgimento ci sono dei platani ma se andiamo adesso sono tutti spogli nudi e allora Giove che apprezzò molto questo gesto disse al platano tu da oggi non perderai più le foglie e si racconta che il platano cratese non perda le foglie va bene chiaramente è un mito però intanto è così e quindi tornando al nostro Pitagora quando Abaris perché questo è il filo conduttore dell'Alexio va bene quando seppe di questa cosa volle conoscerlo e e quindi si sono incontrati e quando lo vide dice sempre il giamblico solo dall'aspetto capì che lui non era un uomo perché e dice così dice ci sono tre specie di natura nell'universo c'è la natura divina c'è la natura umana e poi c'è la natura di Pitagora quindi rimase talmente colpito dalla figura va bene di questo Pitagora che da quel momento lì si cominciò a pensare che veramente esistesse una terza natura e che lui potesse essere davvero il figlio di Apollo e che grazie ripeto a questa sua discendenza potesse essere consegnata all'educazione dei giovani e al governo della città e Abaris diciamo perché sapete nell'antica Grecia l'ospitalità era sacra e quindi Abaris quasi per perché poi Pitagora gli parlò gli parlò delle sue massime i famosi versi auree si chiamano così le massime di Pitagora lui non ha scritto niente e come Socrate come tanti altri di Pitagora noi non abbiamo niente sono gli altri che hanno scritto di lui e quindi le sue massime i suoi insegnamenti va bene i suoi motti sono stati raccolti in un libricino che si chiamano i versi aurei aurei proprio perché fanno riferimento sempre a quella discendenza apollinea che si identifica spesso con il sole e quindi con l'oro cioè l'oro il colore dell'oro non può che essere tutto quello che appartiene ad Apollo Apollo è il dio del sole è colui che fa sorgere il sole e che dà la vita va bene a tutto il mondo e a tutta la natura e quindi i versi sono detti aurei perché tutti gravitano intorno a questa discendenza apollinea e stavo dicendo appunto che Abaris per ringraziarlo di tutto quello che lui gli consegna perché poi Abaris si torna nel paese degli porborei e lì continuò la sua missione fino a quando poi non arrivarono anche per lui i suoi giorni naturalmente e cosa fa gli vuole regalare gli dice ti regalo la freccia d'oro perché tu più di meno possa spanderti per quella che è la Grecia e per quelle che sono le terre emerse perché tu possa guarire e allora ecco che Pitagora si alza tira sulla tunica e gli fa vedere la coscia d'oro e dice ecco io ho già Apollo con me e questa che tu stai vedendo è il segno che ci unisce e quindi dice non posso accettare la tua la tua freccia perché già io così sono un semidio e non posso andare oltre perché un'altra delle massime di Pitagora era che la misura sola la misura sola il metron è divina quindi il fatto di guardarsi dentro e di capire quali sono i propri limiti quello voleva dire probabilmente è uno dei modi migliori per potersi consegnare a una vita diciamo così felice ma qualcuno invece in questa storia ci ha visto altro e torniamo a un altro dei principi proprio di Pitagora e del pitagorismo vedete Pitagora credo che tutti quanti lo sappiamo è legato alla tavola pitagorica no? il teorema di Pitagora questo queste due cose cosa segnalano che effettivamente l'aritmetica la geometria la matematica presso la scuola di Pitagora era una delle questioni capitali principali ma perché? perché a differenza di tutti gli altri filosofi che l'avevano preceduto ed ecco perché mi è piaciuto partire da lui perché chiunque va bene abbia un po' di dimestichezza con la filosofia sa che aprendo un testo di filosofia il primo filosofo che trovate è Taleta no? di Mileto appunto quello che diceva che il principio era l'acqua e poi andando avanti gli altri Anassimandro Anassimone eccetera Pitagora viene dopo e perché però mi è piaciuto partire da Pitagora perché Pitagora a differenza di questi filosofi che vi ho appena citati solo per nome che si sono preoccupati di trovare un principio fisico va bene a quello che è la nostra stessa natura a quella che è la natura l'universo Pitagora invece si è ha fatto un passo avanti cioè si è interrogato non su quello che è il principio fisico che tiene insieme la natura ma piuttosto su qualcosa che possa spiegare tutto quello che noi osserviamo e che funziona in un ordine pensate che lui è il primo che inventa la parola cosmos cioè il cosmo che cos'è? è un universo all'interno delle quali delle leggi si ripetono così sempre all'infinito e nascondono evidentemente sotto un ordine qualcosa che a noi sfugge ma che sicuramente c'è e quindi in questo cosmos che non è altra poi che l'armonia stessa dell'universo no? perché se le cose prendessero a funzionare così a caso probabilmente non avremmo il mondo che abbiamo nella natura che abbiamo e quindi questa idea del cosmos che dovesse avere dentro di sé un ordine universale lo portò a pensare che questo principio primo potesse essere il numero e non vi sembri strano perché per noi il numero no? uno, due, tre, quattro eccetera no? sembrano cose astratte che noi usiamo solo per fare dei calcoli invece per Pitagora no il numero lo potremmo associare oggi facendo un po' i moderni all'atomo diciamo così va bene? era qualcosa di solido era qualcosa che fisicamente tu mettendolo insieme potevi dare origine alle cose per esempio dice l'uno loro immaginavano va bene questi numeri come vi ho detto fisici cioè materiali e immaginavano che i numeri fossero delle pietruzze dei sassolini non è un caso che calcolo come sapete calcolo in latino significa pietruzze sassolini ne sa qualcosa che ha avuto i calcoli casomai al fegato da qualche altre rene eccetera e quindi loro immaginavano che il numero fosse un sassolino e procedevano nella loro dimostrazione in questo modo dice immaginiamo allora che il numero uno sia un sasso due sassi che individuano una retta quindi il punto e il punto di partenza allora sassolino uno punto due sassolini una retta tre sassolini cosa fanno individuano un piano quattro sassolini individuano un volume loro ragionando su questa idea praticamente hanno portato avanti uno studio della matematica che li ha portati al di là del teorema di Pitagora che forse molti dicono conoscevano già gli assiri babilonesi eccetera però la cosa altra qual è che loro sui numeri hanno creato una filosofia e una simbologia se così possiamo dire che è continuata nei secoli pensate che parenti Dandalighieri che non cita mai nella Divina Commedia Pitagora cita tanti altri Talete per esempio Aristotele non so ne cita tanti Platone ma non cita mai Pitagora perché e mentre nel Convivio che è un'opera diciamo così precedente alla Divina Commedia lì ne parla parecchio perché nel Convivio Dante cosa vuole dire vuole dire guardate io vi racconto come va bene dalla ignoranza sono passato alla sapienza e quindi fa un percorso in cui attraversa un po' tutta quella che è la storia della filosofia e parla lì di Pitagora ma nella Divina Commedia dov'è che noi vediamo quello che Pitagora aveva intuito e aveva diciamo così poi trasmesso ai propri discepoli e che nella Divina Commedia se voi vedete i numeri sono assolutamente essenziali cioè nella Divina Commedia c'è una corrispondenza di numeri a partire dal numero 1 al numero 3 al numero 10 al numero 7 che fa spavento gli stessi canti della Divina Commedia sono 33 33 più 1 100 che è il multiplo di 10 e ancora avanti per esempio anche gli stessi pianeti quindi una serie diciamo così di condizione che fanno della Divina Commedia qualcuno ha scritto quasi un'opera pitagorica pensate per esempio alla simbologia che è cresciuta e che è stata tramandata sul numero 7 il 7 per i pitagorici era il numero assoluto unico che non si sposava con nessuno avevano questa idea va bene e che proprio per questo è diventato come devo dire un numero simbolico talmente grande da investire tantissime cose i 7 giorni della creazione non lo so i 7 giorni della settimana le 7 volte 7 che bisogna perdonare le 7 meraviglie dell'antichità e potremmo andare avanti così quindi il numero era veramente il principio universale che regolava tutto quanto il nostro sistema il nostro cosmo e quindi perché siamo arrivati al numero perché quella famosa coscia d'oro va bene di cui vi ho parlato prima secondo altri nasconde invece un'altra creazione oppure un'altra invenzione oppure un'altra come possiamo dire cosa sui numeri che i pitagorici hanno trovato pensate per esempio al numero aureo va bene quella la chiamavano la proporzione divina oppure come mio fratello mi dice il numero di fidia perché perché il numero aureo o la proporzione aurea non è altro che quella idea della bellezza chiamiamola così di proporzione no di misura che noi abbiamo dentro di noi infatti se io provassi a fare un esperimento con voi e l'hanno fatto altri ed è sempre riuscito quindi voglio dire posso risparmiarlo di fare se io vi mostrassi due o tre rettangoli no di diversa fattura e di diversa misura probabilmente voi scegliereste proprio perché dentro di noi poi Platone su questo farà un discorso va bene che diciamo su questo fatto che noi abbiamo quasi a priori dentro di noi alcuni concetti va bene è una delle cose su cui Platone baserà poi tutta la sua filosofia però cosa volevo dire voi sceglierete sicuramente quel triangolo che più degli altri si accosta alla proporzione divina cioè al numero aureo a quella proporzione che poi un matematico del medioevo va bene prima un certo Luca Pacioli e poi un certo Leonardo Fibonacci va bene ne creò una serie e qual è la serie? la serie di Fibonacci è una serie semplicissima ma che individua la proporzione va bene aurea oppure il numero aureo di cui io vi stavo parlando dice Fibonacci uno due allora il terzo numero come lo faccio? lo faccio con la somma dei primi due e quindi il tre poi è il prossimo tre più due e cinque e andava avanti così se voi provate a disegnare un rettangolo con questi numeri cioè tre e cinque cinque e otto otto tredici vi accorgete che effettivamente quel rettangolo risponde a quella idea di bellezza va bene a cui noi diciamo quasi così ripeto a priore no siamo portati a vedere quindi la coscia d'ora dice qualcuno probabilmente nascondeva questa verità del numero aureo di quella armonia va bene di quella proporzionalità che poi è il come possiamo dire così è la stessa essenza dell'arte classica greca no la Grecia diciamo si è espressa attraverso questa proporzione e qualcuno per esempio ha osservato che anche nella natura questa progressione aurea va bene questo numero auro si combina ci sono delle cose in natura parlavano per esempio della forma va bene delle conchiglie no con le loro spirali avete visto ecco qualcuno ha osservato e ha misurato e ha detto quella non è altro che il numero aureo o la coscia d'oro di Pitagora la stessa cosa dicono delle foglie intorno ai rami va bene che hanno diciamo così un avanzamento elicolidale che corrisponde a questo numero aureo e potremmo continuare perché davvero cosa nasconde tutto questo nasconda questa idea che Pitagora riteneva che l'armonia diciamo la proporzione fosse veramente l'essenza e alla quale noi dovevamo impegnare tutte le nostre energie ma come potevamo noi arrivare a capire questa armonia che ci circonda Pitagora aveva un orecchio speciale si racconta che lui sentisse l'armonia delle sfere celesti ma noi non possiamo ascoltarla questa armonia però la possiamo comprendere facendo però un cammino di avanzamento che parte praticamente dal primo scalino infatti chiunque chiedeva di entrare alla sua scuola per perfezionarsi e quindi per cercare di arrivare poi a comprendere il senso assoluto dell'universo il quale si rispecchiava dentro di noi per cui capire l'universo per Pitagora capire l'armonia che regna nell'universo significava capire anche cosa c'era dentro di noi non è un caso qualcuno ha detto che la distanza che c'è tra l'ombeligo e la testa nostra e l'ombeligo e i piedi è anche quella una proporzione aurea dice che Leonardo nel famoso l'uomo di Vitruvio ve lo ricorderete tutti quanti ecco lì Leonardo ha proprio applicato questa storia del numero aureo e quindi ripeto dentro di noi questa armonia c'è solo che per poterla noi ascoltare bisogna educare e la buona parte della vita di Pitagora è stata rivolta all'educazione pensate che chiunque bussava la sua scuola sapete che la scuola di Pitagora quella vera importante è quella di Crotone perché lui lasciò Samo probabilmente insofferente della tirannide del adesso mi sfugge il nome della tirannide di quello che governava Samo e venne in Italia e venne precisamente a Crotone perché perché a Crotone c'era già una scuola medico-filosofica già abbastanza importante in quegli anni siamo intorno al 530 avanti Cristo quindi siamo nel VI secolo e ripeto qui aprì la sua scuola e racconta sempre Giambri che quando fece il primo discorso ai giovani già 2000 chiesero di iscriversi alla sua scuola ma era difficile entrare nella sua scuola perché alla fine ripeto la filosofia pitagorica richiedeva un impegno sicuramente di studio ma soprattutto uno stile di vita infatti la bios pitagorica è tramandata nella storia della filosofia come una delle ragioni essenziali per potersi definire pitagorici e pensate che Pitagora oggi veramente queste cose ci farebbero anche un po' ridere ma esaminava uno per uno i suoi allievi li guardava negli occhi e cercava di capire va bene se questa persona era capace di tacere soprattutto perché secondo Pitagora soprattutto il tacere il silenzio che poi avrebbe dato modo all'ascolto naturalmente perché uno che sa tacere alla fine impara ad ascoltare naturalmente lui guardava se avesse attitudini se avesse rispettato i genitori perché non vi dimenticate il principio che quello che viene prima merita più rispetto di quello che viene dopo se lui si fosse adirato per esempio in delle risse eccetera guardava ogni cosa e alla fine se decideva di ammetterlo pensate che una volta non ammise un aristocratico crotonese va bene che è un po' arrogante superbo lo vide e questo insomma fu poi la rovina della scuola di crotone per dire quanto ci si teneva ad entrare in questa scuola e quando pitagora fosse severo se non severissimo nell'esaminare i suoi possibili discepoli una volta che venivi ammesso dovevi cinque anni stare in silenzio ad ascoltare il maestro dietro a una tenta non lo vedevi per cinque anni il maestro lui parlava dietro una tenta e lì dopo cinque anni se è riuscito in cinque anni a tacere e a far tesoro di quello che il maestro aveva detto e allora il maestro sollevava levava la tenta tu vedevi il maestro e dallo stato di ascoltatore cioè di acusmatico si chiamava così passavi allo stato di matematico cioè finalmente tu entravi varcavi la soglia varcavi il limite del discepolato e potevi anche tu adesso con il maestro discutere e passeggiare pensate che il bios cioè la vita la vita pitagorica la giornata pitagorica era una delle cose diciamo più tassative a cui ogni allievo e poi una volta diventato anche maestro perché quando il maestro poi levava la tenta quello era il momento in cui tu ti potevi dichiarare anche tu magister anche se naturalmente rimaneva la venerazione per il primo maestro però il maestro ti ammetteva nella sua cerchia e diventavi amico amico del maestro ma per cinque anni tu rimanevi lì in silenzio e una volta che diventavi amico del maestro grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.